Ah beh gente, sono Larus e qui su Rom2 Total War Nell'espansione Hannibal at the Gates con i nostri Siracusani Nell'ultima puntata abbiamo finito la conquista di Alalia e Olbia Quindi abbiamo conquistato in tutto anche la Corsica e Sardegna Io tra i miei piani che avevo ce n'erano svariati Tra cui invadere o i Sanniti o i Romani Ci ho pensato un po' Secondo me è meglio invadere i Sanniti Però prima prendermi un attimo un po' di pausa Vedere come si evolve la situazione E dopo agire Praticamente io anzitutto devo migliorare un po' gli edifici nelle varie città Quindi io direi Tempio di Zeu e volevo anche un po' riorganizzarmi il tutto E quindi starò a guardare molto le liste Starò a controllare molti dati e molte cose Anzitutto Siracusa Mi dispiace però qui non mi serve più un edificio per gli opiti di livello 3 Perché adesso siccome non ho più solo Siracusa come città Ma ne ho tante altre Posso mettere i miei edifici militari Non per forza nella capitale Perché li devo tenere nella capitale? Ecco La mia logica è questa E anche tipo gli edifici Di tipo Appunto Religioso nella capitale Nella capitale Io consiglio sempre di far costruire Centri cittadini O acquedotti O comunque qualsiasi altra cosa Che può essere solo ed esclusivamente costruita In una capitale Di provincia Stessa cosa Poi dopo Per Per qui Appunto Tipo Direi che questo edificio può essere distrutto A suo posto qui possiamo fare Un tempio Di Hermes Che mi potrebbe servire Quindi direi di tornare un attimo E vedere un po' la situazione Come cambia Intanto Qui sto costruendo una flotta Molto bene E guardiamo anche un po' in diplomazia Come siamo messi Con i romani avevo fatto pace Credo Sì Però mi odiano Tantissimo I cartaginesi Mi amano D'altro canto E questo è un grande bene E potrebbe andare meglio Perché ho solo Loro come partner commerciali Anche i sanniti Ed è il problema che i sanniti Io li voglio invadere Devo vedere un po' come fare Anzitutto Quindi Prima di andare in qualsiasi altra conquista Questi turni Quindi Fermerò E guarderò un po' Sua disposizione Ordinate Precisa Di edifici Nelle mie città Oltretutto Voglio anche creare Una solida base commerciale E puntare tanto Sulla crescita Che è una cosa importantissima E che Spesso viene sottovalutata Rom 2 Comunque Anche se è un gioco Molto Essendo un Total War Molto basato Su Tattiche Su Alla fine battaglia Guerra Sulla Cosa bellica Il Non è da sottovalutare Il reparto Per Quello lì Per quanto riguarda La Gestione Dell' Cittadina E la gestione Della Della cosa pubblica E Assolutamente Non è da sottovalutare Perché è anche molto complesso Rom 2 Sotto questo punto di vista A Cagliari Quindi Io ho idea Di costruire Un Acquedotto Sotterraneo E così Siamo a posto Invece Qui Voglio costruire Sempre un Acquedotto Sotterraneo A Siracusa Qui Invece Voglio fare Un'agora Un'altra Che mi potrebbe Servire Oltretutto Posso anche Costruire Qualche edificio Nuovo Da qualche parte Direi A Messina Posso puntare Su Masterfield Praticamente È un Centro di occultamento Solite cose Messina Sarà la mia città Militare Praticamente Perché abbiamo Anche un Sorposto Di la popolazione Quindi possiamo Puntare Tanto sulla Crescita Dovrei puntare Tanto anche Su La provincia Nuova Appena conquistata È la Corsica Sardegna Che purtroppo Non è che Sono un Gran Che Già che Qua un Esercito Devo Combattere E Sì Direi di Farla Perché Non voglio Perdere Troppi Uomini Poi dopo Con la Risoluzione Automatica E oltretutto Possiamo anche Vedere Qualche Battaglia Alcuni Di voi Anzi Uno Mi aveva Chiesto La pronuncia Della città Corsa Di Alalia Era nato Una piccola Discussione Un piccolo Dialogo Perché Non sapevamo Qual era La pronuncia Vi sono un po' Informato Non ho Trovato Dati Inconfutabili Però Comunque Adesso Vi dirò Secondo me La pronuncia Corretta È Alalia Non Alalia Perché Alalia A quanto Ne so È un Termino Utilizzato Nel gergo Tecnico Medico Quindi Secondo me Dire Alalia Che credo Che sia qualcosa Che abbia A che fare Con Trasfusioni Di sangue Non sia Totalmente Corretto Detto questo Però Non lo sappiamo Ancora Non sappiamo Ancora Di preciso Qual è Il termine Giusto Quindi Se c'è qualcuno Che sa Se effettivamente La pronuncia È Alalia O Alalia Io Credo Che sia Alalia Non ne son Sicuro Me lo dica Conoscenza Comune Niente Di più Bello Quindi Mettiamo Mettiamoci Così Ok Formazione Classica Picchieri Dietro Peltassi Davanti E oltre Utilizzerò La cavalleria Per attaccare Alle spalle Generale Ancora Dietro Ok C'è Formazione Molto Molto Classica Molto Molto Banale Velocizziamo Un po' Non voglio Correre Perché Non voglio Stancare La mia unità Tanto Guardiamo Questi Contadi Nazi Italiani Mio dio Che facce Brutte Che c'hanno Dei nasoni Tutte Le fazioni Italiche Specialmente I romani Hanno Il tratto Comune Dei nasoni Tipo Guardate Qui Che qua Che sono messi In profilo Si vede Hanno I nasoni Che belli Ah Comunque Qui ci sono Degli spadaccini Dobbiamo fare Attenzione Perché Sendo I siracusani Noi Che puntiamo Molto Sul Tutto ciò Che riguarda Le picche Le lance Se andiamo Nel corpo a corpo Potrebbe essere Qualcosa di Tragico Però comunque Ho i peltasti Ho le picche Niente di preoccupante Io non ho mai provato Queste formazioni Base Di Issus Magnesia Erafia Non la mai provate Credo che Magnesia Sia quella lì Contro gli elefanti Oppure Per gli elefanti Non mi ricordo Raffia Credo che sia Quella lì Tipo Clusterfuck Di elefanti Tipo Devi Mettere solo Elefanti Qualcosa del genere Oltretutto Raffia Comunque È la battaglia storica Se non erro Oddio 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 Rallentate Stop 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 È la battaglia storica Di Rom 2 È praticamente La battaglia Quella tra Oddio 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 Non mi ricordo più Tra Seleucidi E Egiziani Tolomei Ovviamente Battaglia In cui Credo che ci siano stati Più elefanti Oddio Più elefanti Utilizzati Nella storia Cioè Proprio La battaglia Con più elefanti Ora La cavalleria Mi servirà Contro sti qui Qui Sono messi Un po' In maniera A caso Ho mosso Le unità Molto A caso Qui Attacchiamo Alle spalle E con i picchieri Avanziamo Pian piano Che oddio Che roba brutta Ok La cavalleria Cittadina Si deve ritirare Prima che Arrivi Il nemico Con i loro Lanceri Ok Ora Spariamo Tutti Mettetemi In posizione Tutti Quanti Ok Siamo pronti E Direi che Possevo lanciare Un attacco Con i picchieri Avanziamo Pian piano E intanto Entriamo anche Nel Corpo a corpo Con L'altra Fanteria Ok Questi Piccoli lanceri Talici Non se la stanno Passando tanto bene Assolutamente No Oddio Che casino Poveri Poveri Lanceri Non si ritirano Nemmeno Tanto Richiamiamo Nostra vita Così Giusto Così aumentiamo Un po' Il morale Anche se non dovrebbe Servire Però intanto Fa figo Continuo la battaglia Voglio ammazzare Il generale nemico Ok Direi che adesso Posso uscire Dalla battaglia Siccome Ho ammazzato Un generale nemico Ho perso Ho perso Un po' Un po' Di uomini Guardacini Voglio fare Voglio fare Degli eserciti Solo Solo unità Senza picche Perché le picche Trovo che spesso Siano Un Delle unità Troppo lente E quindi Rallentano Tutta l'armata E non mi piace Un gran che Diciamo Io sono uno di Quelle persone Che forse Si trova meglio Come fazze Con le fazioni Tipo Ponto Già solo Mi piace C'è molto di più Oppure Le fazioni galliche Tipo gli arverni Sono la mia fazione preferita Per quanto riguarda Il combattimento Continuo a inseguire Le unità del nemico Direi di Autorisolvere Molto bene Uccidiamo il nemico E ok Molto bene Ora Dovrei Costruire qualcos'altro Si Probabilmente No Non c'è abbastanza Non c'è abbastanza Soldi E ok Con questa flotta qui Possiamo Pattugliare Il mare Così La pirateria Diminuirà Nel Nel mare Della sicilia E mi serve Già Ptolemeo Il mio tizio Speciale Gli do Gradotee Di mantis Sto qua Veramente E' un nobile Che sta farmando Un casino di stelle Sta diventando Molto buono Tanto Tanto Io già Devo reclutare Magari Qualche eroe Tipo questo qua Mi vista Simpatico E Siamo a posto E il generale Di questa armata Risteo Deve essere Aumentato di grado Gli do L'abilità Ma direi Autorità Di livello 2 Ok Molto bene Finiamo il turno E Ok Ora vediamo un po' Anche i cartaginesi Che cosa vogliono fare Probabilmente Adesso saranno Bloccati in Spagna O Se le Previsioni Sono abbastanza rose Saranno Bloccati Da qualche parte Nelle Alpi O nella Galia Cisalpina Credo molto improbabile Credo che sia ancora Annibale sia ancora un po' Impegnata in Spagna A combattere contro Le Tribù Celti Iberiche I Sannitti Se le stanno un po' Prendendo Non voglio proprio fare Il Il cattivo Della situazione Però Credo che sia arrivato L'ora Di far calare La spada Verso il mio vicino Ormai morente È una cosa molto brutta Da fare Però i romani Sono praticamente Qui alle porte I compagni I compagni di Cerbero Li Sposta Crotone Un autunno Cattivo Che devo fare I romani I romani si stanno un po' Riprendendo Questo qua è scipio È scipione Che sta andando All'assalto di Taranto Direi di aspettare Ancora un attimo Forse è meglio Stare un attimo Fermi Tanto Dobbiamo puntare Qualcosa Tipo Sul Costruzione Forse Puntiamo un po' Più sull'economia Tipo Public Auction Che ci dà Più ricchezza Al commercio E anche Più tariffe Degli accordi commerciali Quindi ci può Abbastanza servire Andiamo intanto A seguire Il mio esercito E alleniamo Addestriamolo Ecco E stiamo Guadagnando Un po' Di soldi Va Molto Molto Bene Tanto Si Continuiamo Ad aumentare Gli edifici Commerciali Cioè Commerciali Per quanto riguarda La produzione Agricola Che è uno È molto importante Perché La maggior parte Degli introiti Si fa Ma anche Sull'agricoltura Infatti L'agricoltura Assieme Al Tutto ciò Che riguarda L'immobiliare E gli edifici Sono le basi Dell'economia Di un paese Quindi puntiamo Molto su quello E i romani Non so che cosa Vogliono fare Effettivamente Potrei anche Attaccarla Attaccare i miei vicini Una volta per tutte Così pian piano È una città In meno da conquistare Magari posso anche Prendere Taranto Popolazione Un po' Infelice Nella Corsica Sardegna Però Stanno diventando Pian piano Un po' più felici Possiamo fare Una fontana Sì direi Aspetta Direi che una fontana Può andare bene Così aumenta un po' La crescita Sì sì Può andare Può andare E ok Oh mio dio Abbiamo costruito Tanti di quegli edifici Guardiamo un po' Che cosa vuole fare Turi La posso conquistare Anche questo turno Se voglio Quindi sì Direi che ora Di fare il più grande Tradimento E attaccare i miei alleati Molto bene E attacchiamo Il nemico Questa qua Dovrebbe essere Una battaglia Non troppo difficile Direi Anzi no Direi di lasciare Il nemico Che mi attacchi Tanto i romani Possono tenere Molto a bada Il nemico Non possono farlo Di certo arrivare E quindi Posso I rinforzi Non ne possono Non possono arrivare Di certo E quindi Di sicuro Il nemico Sarà un po' Impegnato Una cosa che posso fare Magari è dare supporto Con la mia flotta Nella zona Sì Posso Di sicuro Supportare E ok Mi stiamo avvicinando Pian piano E Ok Benissimo I cartaginesi Si saranno di sicuro Per sé A qualche parte Sto pensando Oltretutto Se quell'esercito Lì ce la può fare Anche da solo Io non è che Voglio prendere Così Tante Città Perché Taranto Credo di non avere La forza militare Per attaccarla E adesso Mi stanno attaccando Battaglia di Turi Sanniti Contro Siracusani I compagni di Cerbero Questa qua Non dovrebbe essere Una battaglia Troppo complessa Perché il nemico Se io mi campero A un lato Il nemico Non è che può Fare un granché Voglio vedere un po' Cosa Vuole fare Effettivamente C'è anche la flotta Di Guarnigione Però Non è che credo Che sia un grande problema Magari posso Puntare A Utilizzare La picca In maniera Offensiva Voglio vedere un po' Che cosa si va a creare Sì voglio vedere un po' Che si crea Ok sto pensando Un po' Le tattiche da fare Potrei Fare una tattica In stile Battaglia Di canne Che intendo Posizionare L'unità così Praticamente Così Il Nemico Mi attaccherà Praticamente Ovviamente Il fronte Il mio La mia parte Centrae Si arretrerà Pian piano E i fianchi Avanzeranno Tipo Non so se Riesco a dare l'idea Praticamente Questa parte qui Andrà indietro I miei fianchi Avanzeranno E riusciranno A cercare Il nemico L'unica cosa Che stavo pensando Arretrare con le picche È una cosa Abbastanza scomoda E difficile da fare Quindi Potrei fare Una cosa Molto diversa Cioè Mettere Le unità Tutte così Molto molto Larghe Anzi E praticamente E ovviamente Gli arcieri dietro E quello che voglio fare È Invece A sperare Che il nemico Sia una formazione Più compatta E quindi Praticamente Fare una morsa Questa tattica qui Della battaglia di canne Potrebbe andare Molto bene Nel caso Quando proprio Tu Hai un'inferiorità Numerica Bella avanzata Effettivamente Sto guardando Posso fare una cosa Anche Molto diversa Mettere Le unità Non proprio in linea Ma Distanziarle Un po' Questo cosa Mi porta Mi porta A Praticamente Far sì Che il nemico Debbe Ingaggiare Solo Una parte Del mio schieramento Preferibilmente Il centro E Voglio vedere un po' Che Che si va a creare Unica cosa Che Ciò Metterà A dura prova La stabile Delle Unità Avanziamo Le unità Però Dovono correre Purtroppo Gli arcieri Si devono ritirare Perché Stanno Soffrendo Molto Il tiro Di Quest'unità Formate La falange Picchieri Ok 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 I miei opliti Dovranno passare In mezzo Alle unità E affrontare Il nemico Cioè il nemico Le unità Di Giavellottisti E lanceri Del nemico Tutte le unità Stanno resistendo Abbastanza bene Adesso gli arcieri Mi serviranno Andate a combattere Formazione molto serrata Non faccio tutto questo Perché Non voglio Quando volevo passare In mezzo Non volevo che il nemico Mi Blocca In qualsiasi maniera Qua Stanno resistendo Un po' Da tutte le parti E adesso I miei arcieri Mi serviranno Contro Sempre questi Questi tizi Qui I miei picchieri Stanno avanzando Pian piano E qua c'è La folla Che vuole attaccarmi Ora direi Di avanzare Pian piano No Hanno alzato le picche Ma perché lo fanno Avanzare Non vuol dire Alzare le picche Non so perché Lo fanno ogni volta Ok Ora Siccome abbiamo sfondato Su tutti i lati Direi che possiamo puntare Al centro Il mio generale Se la sta cavando Molto bene Direi che posso anche Può anche togliere La formazione Quella statica Molto bene Ed è rimasto solo Con I Frombolieri Di leva Vediamo la carica finale Che bell'attacco Sì abbiamo vinto Sì abbiamo vinto Questa battaglia In una maniera Egregia La mia tattica Ha funzionato Non volevo tenere il nemico In una unica posizione Ho voluto un po' Sparpagliarlo Ovviamente Se attaccava il centro Era ancora meglio Però se attaccava Anche tutto il resto Praticamente Io Se attaccava tutto il resto E non riusciva Ad attaccare il centro Come ha fatto Appunto Praticamente Come avete visto Le mie unità Riuscivano Comunque A A Ingaggiare Molto bene Tutte le sue unità di lancieri Infatti hanno fatto Delle perdite In confronto ai miei uomini Che sono Altissime E Non volevo tenere Oltretutto Anche tutte le unità Attaccate Perché quei frombolieri Non mi piacevano tanto Se I picchieri Stanno molto attaccati Perdono mobilità Uno E due Perdono anche Molti uomini A causa Del fuoco nemico Ovviamente Sono più compatti Se tipo Io sono un Giavellottista O un Fromboliere nemico Io tiro un colpo Tiro un sasso Se manco Io lo tiro In una marmaglia Di uomini Ovviamente C'è alta probabilità Che Riesca a prendere qualcuno Rispetto A un Piccolo gruppo di uomini Ecco Quello che voglio intendere Questo E Oltretutto Abbiamo visto Il mio generale Riuscì a passare in mezzo A queste File Molto Larghe E l'ho mandato Contro Il nemico Battaglia Egregia Direi di Schiavizzare La popolazione E direi che posso Attaccare Turi Di nuovo Anzi no Stiamo un attimo qui Tranquilli Molto Molto Tranquilli E andiamo con la nostra Oddio Non riesco Arrivare Tanto per il piano Non riesco A prendere Col Il segnalino La città Ecco Presa Ora direi di fare una Battaglia navale Molto carina E vediamo un po' come va Un assalto navale Combinato con un assalto terrestre Io voglio più che altro Bombardare unità terrestri Con le mie unità navali E Uccidere I giavellottisti Sull'emiolia Credo che sia Emolia Emolia Non mi ricordo come si pronuncia Non so nemmeno che Comunque le navi leggeri Del nemico Le mie sono delle pentere Credo Oddio Non mi ricordo mai più i nomi Delle Delle navi Greche Questo qua pioggia Pioggia Sempre pioggia C'è un po' il sole Oh peggio di prima Vabbè Molto cinematografico Molto Sì Queste qua sono pentere Sì Non ho sbagliato il nome Queste navi qui sono devastanti Inutile dirlo L'unica cosa Che prendono fuoco in nulla Tutte le navi grandi Hanno un bel vizio Che è prendere fuoco Ovviamente Non è Una delle cose migliori Che ti aspetti da una nave Però comunque Riescono a prendere fuoco Vabbè Allora ho anche un po' un bene Che ho E anche un po' un bene Che c'è la pioggia Così nel caso Se le mie Ah no Non vuole proprio trovare Il combattimento Si ritira E sbarca Una cosa che fa spesso Il nemico No Solo una nave però Vuole Combattere Allora Combatterà Andiamo A speronare Con le mie pentere Mi divertirò Molto Perché sarà divertentissimo Potete anche Far passare Non è che Dovete mettervi davanti Ok Lasciate Passare le due navi Prima E non sparate a volontà Per piacere Perché non è simpatico Che cazzo stai facendo Ecco Ho detto Non sparate a volontà Voi lo fate comunque Però siete molto simpatici Quando lo fate Ok Vediamo prima Il combattimento Vediamo Adesso la mia nave Che andrà A speronare L'altra Ok Questa piccola Emolia Emiolia Non so come chiamarla Andate in fiamme Molto bene Ora Possiamo metterci Qui E iniziare a sparare Alle unità Del nemico I miei picchieri Sono tutti qui Pronti A entrare in azione Questa volta Dovrò utilizzare Una tattica Di combattimento Opposta Dovrò essere Molto Molto Compatto E sfruttare Le vie cittadine Per bloccare Il nemico Tra le mie picche Ah già Qua c'è anche Un picchiere Che sto dimenticando Direi che tutti Possono camminare Non c'è Alcun bisogno Di correre E vediamo un po' Che cosa Il nemico E come si è disposto E io intanto Posso anche un po' Sparare Con Con le mie navi Al nemico Ecco Direi anche Che posso divertirmi Se voglio A sparare In maniera Manuale Ok 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 Questo colpo qui Ha fatto molto male Vediamo se riesco A beccare Bah Non ho fatto Assolutamente Nulla Direi Adesso puntiamo Gli arcieri Che non mi piacciono Assolutamente Sanniti Bruciati Ok Adesso ti Posserà Sparare Ovunque Sparo Colpirò Qualcuno Ah Quel colpo Lì Ha fatto Molto male Che bello Vedere Le persone Bruciare Si Questo qua Ha fatto Molto Molto male Che bello Bruciare Le persone E' Fantastico Tire Le loro Urla Si però Questo colpo Qui Non ha Fatto Nulla Molto bene Non ha Fatto Ancora Nulla E spariamo Ah L'acqua Peccata Bene Bagnasciuga Ok Basta Non spariamo Più lì Non è una buona Cosa Spariamo Quei Quei tizi Che non mi Stanno tanto Simpatici Che non ho Beccato Oddio Non riesco A beccarli Spariamo Un po' Più indietro Ecco Così va Bene No C'era Il colpo C'era Ecco Ok Questo qua Beccato Molto Bene Ti può giocare A bullying A me piace Molto il bullying No Ora Spariamo Con l'altra nave Allora Sì Questo qua Direi che È uno Spar Molto bene Oddio No Ho Mancato Del tutto Ok Non riesco A beccare Lascio Fare Tutto Il lavoro Tanto Voi potete Anche un po' Sbregarvi Se volete Tanto Nemico È Molto debole Ce la possiamo fare Velocizziamo un po' il tempo Dunque Stanno sparando Questi Fromboliere Delle navi È tipo Tipo Sembrano degli studenti Qualche manifestazione Infatti Molte battaglie Soprattutto quelle Contro le guarnigioni Sembrano Tipo le manifestazioni studentesche E poi arrivano i picchieri Gli opliti Che dicono Ok ragazzi Tornate a scuola Tornate di studio Avete fatto il vostro casino Oddio Non hanno più sparato Allora possiamo sparare ancora Che bello Oh Questo qua L'ho beccato Molto bene Eh si sta muovendo Di continuo Il nemico Ora Spariamoli Oh Mancato Stanno molto compatti Infatti Se riesco a beccarne No Ora direi che posso Avvicinarmi con le altre navi Che loro possono sparare Queste navi anche Sempre se ci passano Qua in mezzo Oddio Oddio Che cosa sta succedendo Ok voi potete sparare Divertitevi E voi Avvicinatevi Ah che bello I miei giovellottisti Sulle navi Che riescono a sparare L'unica cosa Che Stanno sparando Un po' vuoto E andiamo a sfondare Alla fine Il Totalmente Il nemico Guarda che si ritirano Davanti all'avanzata Di miei picchieri Oh I miei picchieri Non hanno fatto nulla Sono messi lì Gli studenti Se ne sono andati Persi 17 uomini Nessun problema Battaglia molto ridicola Come la maggior parte Di battaglie D'assedio di round 2 Però Ce l'abbiamo fatta E questo È una cosa Molto importante Bene gente Abbiamo vinto I sanniti Hanno perso Una Importante Cioè importante Oddio Non so se tantissimo Importante Città Insediamento Villaggio Nella Calabria Vediamo un po' Come Se la cavano Ad essi I sanniti Probabilmente Se fosse in loro Mi metterei a pregare Perché I romani E i siracusani Stanno arrivando E stanno distruggendo Tutto Quanto Molto 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 bene Licurgos E decimus Caecus Io mi chiedo perché Sia i sanniti Sia i romani Cioè Sia i romani Sia gli etruschi Danno nomi Divinità Tutto Quanto Romano Cioè Non ha senso Cioè Potrebbero dare Qualcosa di Più Originale Tipo Vabbè per i sanniti Ci sta ancora Non mettere proprio L'accuratezza storica Che ci sta Abbiamo Siamo arrivati A livello Uno di Imperium Cioè Due Non so Non ho visto bene Guardate Sfuggita E Questa città qui È bella È messa Bene Dai Direi che qua Posso fare Un tempio Di Non lo so Di Un Sacred Groove Si Direi di si Quatturi Modifichiamo Tutto E Direi che Posso anche Distruggere Questa Fattoria Molto Bene Direi che per questa puntata Si è tutto Votate Commentate Ci sentiamo Alla prossima gente Da Laura Ciao 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 Ciao